Lunedì e martedì al Teatro Erba a Quattorino c'è l'arte di sapere invecchiare. Esattamente, vi aspetto tutti quanti, l'arte di sapere invecchiare, o meglio il Desenectute, è questo bellissimo spaccato sulla vita in generale e in particolare sulla vecchiaia, o meglio vecchiezza, perché c'è questa distinzione, la vecchiezza è un sinonimo di vecchiaia ma con una maggiore dignità e solennità. Si parla di vecchiaia e di giovinezza, scherziamo nello spettacolo dicendo anche una frase di Luciano De Crescenzo che dice, giovinezza, maturità e vecchiaia sono tre fasi della vita che possono essere definite rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia per cambiare il mondo e si finisce per cambiare i canali. È vero. È una cosa vera, non ci scherziamo molto, anche se il motto di questo spettacolo credo che sia una frase di Rita Levi Montalcini che dice, bisogna aggiungere vita agli anni e non anni alla vita. E questo è fondamentale, è la chiave per leggere questo bellissimo spettacolo che praticamente è un'orazione di Cicerone, bisogna dirlo, quindi prevale la retorica, prevale l'intelligenza e la forza della parola che sta appunto nelle mani di Cicerone che interpreta il personaggio di Catone nella storia. Quindi la vecchiezza è interpretata da Catone, mentre la giovinezza da personaggi come Lelio e Scipione. Quindi ci sono i ragazzi e c'è anche l'autorità di Cicerone. Quindi due generazioni a confronto. Esattamente, uno spaccato proprio sulla quotidianità, ci si chiede come affrontare al meglio la vita per arrivare a una senectute, a una senectus, quindi a una vecchiezza valida e efficace negli anni. Cicerone ci illustra come questo possa essere possibile appunto, per esempio, praticando le arti, praticando attività non solo fisiche ma più che altro spirituali, quindi attraverso anche l'anima che secondo l'autore è immortale. Tu sei così giovane, ma ti ha fatto un po' riflettere questo spettacolo? Ti ha portato, non so, a pensare alla futura vecchiaia? Vecchiezza anche. Vecchiezza, siamo più precisi, vecchiezza. Termini tecnici. No, no, sicuramente sì, anzi, ogni volta che faccio questo spettacolo ci troviamo sempre a pensare alla vita perché proprio è una riflessione, un'ora pura di riflessione. Ed è adatto a tutti perché appunto parte dalla giovinezza più giovine alla vecchiaia più vecchia. Elia, grazie tanto. Grazie a voi, vi aspetto a teatro, ci vediamo.